La preghiera quotidiana che stai per ascoltare contiene una potentissima benedizione divina. Se vuoi che ogni giorno il nostro canale ti proponga nuove preghiere, allora supportaci mettendo mi piace a questa preghiera video, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Carissimi fratelli e carissime sorelle che ci seguite con devozione nel nostro canale YouTube dedicato alla preghiera quotidiana, oggi ci riuniamo in un momento di comunione e spiritualità per rilevare insieme una preghiera bellissima e semplice alla presenza del Signore. In questi giorni vicini al Natale, i nostri video sono deliziati da una copiosa neve che scende durante i nostri momenti di preghiera. Se ti piace questa atmosfera, faccelo sapere nei commenti. Ora iniziamo a pregare insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Padre Celeste, fonte di amore eterno, ci avviciniamo a te con cuori aperti, consapevoli della tua misericordia che ci avvolge come un manto. In questa preghiera quotidiana, nella quale ci riuniamo come una famiglia virtuale, desideriamo esprimere la nostra gratitudine per il dono della fede e la bellezza della preghiera semplice che ci unisce come membri della Chiesa Cattolica. Nel silenzio dei nostri cuori, permetti di sentire la tua presenza amorevole mentre pronunciamo parole di lode e supplica. Guida i nostri passi lungo il cammino della tua volontà, affinché possiamo essere testimoni della tua grazia in ogni aspetto della nostra vita. Concedici la forza di perseverare nella nostra preghiera quotidiana, sostenuti dalla consapevolezza che ci ascolti con amore di Padre. Ti chiediamo, o Signore, di stendere le Tue mani benefiche sulla nostra comunità virtuale di fratelli e sorelle, diffondendo la tua benedizione divina su di noi. Possano i nostri cuori essere colmi della tua pace che supera ogni comprensione e che la nostra unione in questa preghiera sia un riflesso dell'amore che hai per ciascuno di noi. Accogli le nostre suppliche, o Dio misericordioso, e invia il tuo Santo Spirito per guidarci e rafforzarci nella nostra fede. Che la preghiera quotidiana diventi per noi un momento di intima comunione con te e che la bellezza di questo atto ci avvicini sempre di più al mistero della tua presenza. Concludiamo questa preghiera con il cuore pieno di speranza, sapendo che sei il nostro rifugio sicuro e la nostra forza in ogni circostanza. Benedici, o Signore, la nostra comunità virtuale e diffondi la tua benedizione divina su di noi, oggi e per sempre. Amen.